Allora, riprendiamo, se vi sedete riprendiamo perché ovviamente l'intervallo è stato più lungo del dovuto, ma questo è naturale. Siccome abbiamo ancora tutta una serie di interventi sicuramente molto interessanti, passiamo subito all'intervento successivo che viene tenuto dalla professoressa Daniela Perani dell'Università Vita Salute Ospedale San Raffaele di Milano, la quale è una neuropsicologa e neuroradiologa, potremmo definirla così. Quindi una persona che in Italia si è occupata in particolare del neuroimaging di diverse problematiche neuropsicologiche, tra cui anche la dislessia. Ha prodotto degli studi che sono noti a livello internazionale, pubblicati sulle maggiori riviste di neuroimmagine, e quindi ci farà una rassegna delle conoscenze di neuroimaging che negli ultimi anni si sono estremamente sviluppate in questo settore. Grazie Enrico, grazie dell'invito, che ho accettato molto volentieri, perché una delle mie, diciamo così, importanti ricerche, filoni di ricerca, a cui mi sono dedicata sempre con tanto entusiasmo, è proprio lo studio dei disturbi della lettura e associati del linguaggio di tipo evolutivo. E credo che io e i miei collaboratori in questo campo abbiamo forse fornito degli suggerimenti, delle indicazioni, delle idee con dei nostri risultati. Risultati che sono nell'ambito neuropsicologico certamente, ma anche e soprattutto nell'ambito dello studio delle modifiche, dell'imaging, quindi delle evidenze neuroanatomiche, questa volta macroscopiche, ovviamente abbiamo sentito parlare di genetica, di molecolare. Ora vedremo invece dei risultati che stanno un po' al di sopra di tutto questo, ma che però sono altrettanto importanti per comprendere che cosa sta alla base della neurobiologia di questi disturbi. E devo dire che il contributo nostro, di Eraldo Paoleso, di Cristiano Termine, altre persone con cui io ho lavorato, è stato fondamentale per la consapevolezza a livello della società, che la dislessia non è un qualcosa di così astratto, ma è una realtà effettivamente neurobiologica con delle espressioni diverse nell'ambito della gravità del disturbo, questo certamente. E di questa consapevolezza, appunto, diciamo che possiamo dire abbiamo contribuito. Abbiamo contribuito e a questo punto nella società c'è chiaramente una conoscenza nuova e una conoscenza di una realtà anche del cervello e del suo funzionamento. E l'imaging è un importante fattore. Quindi non voglio soffermarmi su cose che sapete benissimo, che cos'è la dislessia, è una difficoltà a leggere, soprattutto è un rallentamento alla capacità di leggere e quella che gli inglesi chiamano fluency, che può anche determinare una minore accuratezza nella lettura. Senza ovviamente deficit dell'intelligenza generale, ma io ho scritto è associata a specifici defici cognitivi. Sì, oggi sappiamo che è anche possibile questo. Ci sono associate alterazioni, a volte modiche, a volte più importanti, di altre funzioni cognitive che sono legate anche al linguaggio e che possono contribuire in parte anche al fenotipo dislessia. Adulti con la dislessia, diciamo che la dislessia può, vista la situazione diversa di modulazione della sua gravità, anche compensare pienamente nell'età adulta, però come dicono i criteri clinici, gli adulti possono raggiungere standard normali di lettura, però il disordine può apparire se testato in maniera adeguata e quindi qualcosa forse resta dietro. C'è una prevalenza che varia tra le culture e si intende tra i linguaggi e quindi, l'abbiamo sentito anche oggi, tra i diversi livelli di ortografia. Le ortografie trasparenti, fonema, grafema corrispondente e invece le ortografie non trasparenti, come l'inglese in particolare. Quindi vedete che la differenza di incidenza è altissima, dal 1 al 30%. Ci sono basi genetiche, abbiamo sentito una bellissima lecture di Silvia, Paracchini, che ci ha raccontato le ultime evidenze e le direzioni della ricerca, ma la genetica ci ha detto in particolare che la dislessia è un disturbo che esiste da un punto di vista familiare e che quindi ha un'ereditarietà. Ci sono fattori genetici sicuramente che stanno al di sotto di questo deficit, quindi che determinano una certa neurobiologia in una grande proporzione della popolazione e come è stato evidenziato da soggetti, da famiglie con dislessia e anche dai gemelli. Oggi si tende a studiare gli disordi di sviluppo e anche quelli neuropsichiatrici tenendo conto di questo modello che va dal fenotipo, cioè la diagnosi, che oggi è fatta in maniera molto più adeguata rispetto a una volta con dei criteri più validati, standardizzati e migliori, alla genetica sottostante con studi di punta, edge of the research si dice, e per quanto mi riguarda l'interesse del vedere che cosa ci sta di mezzo, cioè l'endofenotipo. L'endofenotipo comprende sia misure cliniche, quindi per esempio misure neuropsicologiche che ci dicono quali settori, quali domini cognitivi possono essere coinvolti, quelli che sottostanno alle capacità di lettura o di linguaggio, e poi misure biologiche. Per misure biologiche intendo anche misure, per esempio, dell'anatomia del cervello, delle connessioni e di altri aspetti. Quindi vedete questa integrazione. Questo è un lavoro, suggerirò qualche lavoro per la lettura agli studenti che frequentano questo meeting. Questo è un lavoro di Galaburda, uscito insieme ai suoi collaboratori nel 2006, ma validissimo, per la prima volta, viste le evidenze già da allora presenti, si può passare da considerare una situazione genetica al comportamento, anche nella dislessia di sviluppo. E che cosa dice? Nel 2006 dice che ci sono dei geni, addirittura quattro, ne avevano identificati già allora, che potrebbero essere associati alla dislessia di sviluppo. E che geni sono? Sono dei geni che, l'abbiamo un po' sentito anche stamattina, partecipano allo sviluppo del cervello nel bambino. E sappiamo anche, diceva Galaburda, che è stato il primo a evidenziare questi aspetti anatomici, che ci sono delle anomalie nel cervello dei soggetti con dislessia di sviluppo. Questi geni, andrò veloce perché abbiamo già visto la lezione stamattina, sono fondamentali non nello sviluppo in generale, ma diciamo nella costruzione dell'architettura del cervello. Cioè nel risolvere quello che sembra ancora un mistero, ma che in realtà non lo è, perché ha delle basi effettivamente genetiche, di esatta connessione di vie neurali, quindi direi anzitutto di sviluppo neuronale specifico in settori specifici e poi di connessione dei neuroni, degli assoni, in direzioni precise e non sbagliate, casuali o addirittura patologiche. Quindi capite come questi geni, vedete qua la KIA, il ROB01, il DCDC2 e il DYX, sono quelli identificati, tutti contribuiscono a questa possibilità dell'evoluzione architettonica del cervello. Gli studi genetici sono soprattutto studi di linkage, scusatemi, poco sono studi linkage, la maggior parte sono studi di associazione, abbiamo anche visto perché, quindi non mi dilungo. È stato appena accennato a questo lavoro, che io però ritengo abbastanza importante da sottolineare, perché il primo lavoro in un certo gran numero di soggetti, tutti a rischio per disordini tipo dislessico o di ritardi di linguaggio, di problemi di linguaggio e i loro parenti stretti. E questo lavoro ha evidenziato che ci sono delle variazioni di polimorfismo dei geni, gli SNP, i sinucleotidi, che sono legati al gene FLC o al FOX2, che si associano a diversi tratti di lettura e di linguaggio. E cosa sono questi due geni? Ancora sono geni che codificano per proteine coinvolte nella modellizzazione del citoscheletro e regolatori anche della splicing dei neuroni, quindi sempre della costruzione dell'architettura del cervello nello sviluppo. Senza ripetersi, questi sono i geni candidati più associati allo sviluppo di dislessia, abbiamo visto DC-DC2, lo risottolineo perché nella parte finale della mia presentazione vi farò vedere un lavoro che noi abbiamo fatto in relazione a una mutazione di questo gene. Gli altri li abbiamo visti adesso e tutti, vedete, sono importanti perché regolano la migrazione neurale, la cell-to-cell adhesion, l'adesione dei cere, quindi la costruzione della corteccia, lo sviluppo della corteccia, la guida degli assoni verso target specifici e quindi capiamo la loro importanza nel creare un substrato di base che sia il migliore, su base genetica, per il miglior funzionamento del nostro cervello, pur in una curva gaussiana della distribuzione della normalità, ma questi geni e altri ovviamente, ma questi stati associati a dislessia funzionanti, funzionano per una buona costruzione del cervello. Queste sono altre evidenze che avete già visto stamattina, dove quando vengono alterati o deletti questi geni, soppressi, vedete che non c'è una normale migrazione di neuroni verso gli strati corticali adatti, ma resta tutto disordinato e mal organizzato. Questi sono ovviamente studi preclinici nell'animale. Ma, ecco, questo l'abbiamo appena detto, fanno sezioni istologiche della corteccia e vedono in queste situazioni di silenziamento dei geni, ectopie della sostanza grigia. Cosa vuol dire? Che ci sono degli ammassi neuronali anomali, cioè non propriamente posizionati, eterotopie e anche displasie, appunto, nel cervello di questi topolini. Questi geni sono geni condivisi da altre forme di disordine allo sviluppo, per esempio il DHD, e insieme ad altre alterazioni più molecolari di neurotrasmissione anche altri disordini più neuropsichiatrici, come disturbi d'ansia o altro. Per cui vedete che questo vi deve far pensare che effettivamente dei geni che organizzano l'architettura del cervello possono, se alterati, in vario modo finire in fenotipi differenti. Quindi è possibile che mutazioni simili possano, perché la varietà dell'alterazione durante lo sviluppo, magari anche con fattori epigenetici, è grande, il fenotipo è vario, sia come gravità, sia come tipo. Spero che questa premessa sia abbastanza chiara. Infatti vediamo che questi geni hanno anche degli effetti pleiotropici. Per esempio questi due geni sono varianti a rischio che correlano con disturbi di memoria a breve termine, quindi con soggetti che presentano, magari non disturbi di linguaggio, non dislessie, ma importanti problemi di memoria a breve termine. Oppure lettura, ma di nuovo anche memoria a breve termine, e così via. Anche questo vi deve far pensare che un'alterazione di questi geni che regolano l'architettura può quindi, come fenotipo, arrivare a produrre delle alterazioni in domini cognitivi diversi. Questo è un lavoro che mette insieme una situazione genetica alterata con l'imaging. E in questo lavoro abbastanza recente, uscito su Journal of Science, viene correlato il polimorfismo di questo gene, chi ha i A, e la sua espressione, quindi il polimorfismo vuol dire che non tutti siamo uguali, abbiamo dei polimorfismi, ma la differenza appunto, quello che ci differenzia, differenziava in questi soggetti, a cui è stato misurato il polimorfismo, anche l'attivazione del cervello. In quali strutture? Per quanto riguarda questo polimorfismo genetico, attivazioni a livello dell'emisfero di sinistra e soprattutto a livello di strutture importanti nel linguaggio. Guardate, questa è l'area di Broca, l'area frontale inferiore, ma anche in aree motorie e premotorie, che sono importanti per esempio per l'articolazione del linguaggio, ma anche per la rappresentazione motorica per parlare, e anche in componenti che sono più visuopercettive. Quindi il polimorfismo significa che le attivazioni, quindi la capacità di reclutare un adeguato numero di neuroni, quindi di attivare la struttura, varia a seconda di com'è fatto il gene. E questo dimostra la stessa cosa, dove appunto il segnale bold alla risonanza, vedete, variava a seconda dell'espressione dei polimorfismi. Mentre invece questa espressione dei polimorfismi, per esempio non individuava grosse differenze nella comprensione del linguaggio o in altri aspetti linguistici, ma soprattutto nella lettura. Questa è un'altra immagine che ci dice che questi due geni hanno modificato, modificano, impattano, diciamo così, l'attivazione del cervello su specifiche strutture. Guardate come il FOXP2, che è legato a una famiglia, e si sa che un'alterazione di questo gene dimostra nei soggetti colpiti, in queste famiglie, gravi disturbi dell'articolazione, soprattutto del linguaggio, quindi dell'aspetto motorico. Vedete come anche in questi soggetti il polimorfismo mostrava un'alterazione in strutture che sono premotorie e motorie della componente di Broca. Quindi vedete come tutti gli aspetti poi combaciano e ritornano tra di loro. Quindi guardiamo gli endofenotipi dal punto di vista dell'imaging anche. La domanda che tutti si sono posti, da quando Galaburda per prima, adesso lo vediamo, descrisse delle alterazioni, ci sono alterazioni strutturali e funzionali nel cervello dei soggetti dislessici. Era l'85 quando Galaburda descrisse alcuni casi post-mortem di soggetti con dislessia dove lui aveva visto queste alterazioni, le stesse che hanno visto nei topolini con il silenziamento di quei geni. Dislaminazioni, ettopie, addirittura schergle gliali, quindi è come se lì non si fosse sviluppato il neurone della corteccia ma questa fosse stata occupata da tessuto non neuronale. E una riduzione della tipica asimmetria che noi abbiamo, umani, tra il plano utemporale sinistro e destro. Abbiamo più grande il plano utemporale di sinistra, era invece ridotta o non c'era. Ecco il famoso report di Galaburda con l'anatomia patologica di queste alterazioni, queste ectopie nella corteccia che normalmente non ci sono. Allora adesso abbiamo l'imaging, quindi possiamo guardare dentro al cervello, possiamo guardare dentro la sua anatomia, le sue connessioni e la sua funzione. Quindi la sua anatomia la possiamo guardare con la risonanza magnetica strutturale, ma così è un po' difficile. Negli ultimi 10-15 anni i fisici, i matematici, ci hanno fornito dei software e poi delle possibilità di analisi che ci permettono veramente di misurare, per esempio, con la voxel-based morphometry, le differenze di volume del nostro cervello tra gruppi di soggetti, soggetti con patologie e differenze tra questi. E questo, parlavo prima con Cristiano Termine, è stato un nostro lavoro che ormai ha 10 anni, un po' di più, che è stato fondamentale. Noi ci siamo domandati, appunto era appena uscito questa possibilità di misurare i volumi, e allora abbiamo preso, per essere più sicuri, delle famiglie con dislessia e abbiamo analizzato i soggetti dislessici, il padre, il figlio, la mamma, il figlio, fratello, la sorella, e ne abbiamo messo quattro di famiglie insieme, completamente slegate tra loro, ma il fenotipo era dislessia. Con questo metodo ottimizzato, non posso certo descrivere la metodologia, siamo riusciti a separare la sostanza grigia dalla sostanza bianca e a prendere volume per volume, pixel per pixel, voxel per voxel, e confrontarlo con un gruppo di ragazzi non dislessici, cioè, insomma, cognitivamente normale, soprattutto non dislessici. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato delle differenze importantissime. Se questi sono i planum temporali, vedete in questa sezione, in rosso e giallino, vedete la differenza significativa tra i dislessici e i normali, lettori, si vede che c'è una, questo significa che c'è una riduzione della simmetria del planum. Abbiamo trovato delle modifiche anche nel cervelletto, qua sono i nuclei cerebellari, e una modifica importante a sinistra, questa è la parte sinistra vista a destra, a livello di una struttura che adesso vedremo tante volte, che riguarda degli aspetti più occipitotemporali, quindi più visuopercettivi. Insomma, c'erano delle differenze anatomiche importanti. Questo è stato praticamente il primo lavoro, credo, pubblicato in quel senso. Ne abbiamo poi subito fatto uscire un altro dove abbiamo studiato un numerosissimo gruppo di dislessici, tra l'altro di differenti nazionalità e abbiamo dimostrato che tutti, indipendentemente in questo caso dalla lingua, ma avevano un core comune di alterazione di volumi e l'alterazione di volumi era una, quello che diceva Galaburda, incrementi e decrementi, una sorta di visione delle ectopie in vivo della corteccia, sempre in emisfero sinistro, sempre che coinvolgevano praticamente in maniera importante l'area di broccale del linguaggio, un'area del giro temporale superiore e quest'area visuopercettiva occipitotemporale. E le alterazioni volumetriche si associavano allo standard di capacità di lettura come rapidità di lettura. Quindi è chiaro che c'è una relazione anche diretta con queste alterazioni viste nei soggetti da posizio anatomico. Questo ve lo faccio vedere perché è un lavoro interessante, ce ne sono pochi, di studi su bambini molto piccoli, perché è difficile fare la risonanza a un bambino molto piccolo, metterlo dentro, eccetera, anche se deve solo star fermo e non far niente perché sono studi anatomici. E anche questo lavoro ha dimostrato, come noi, negli adulti, che c'è un'alterazione a livello del plano temporale, quindi si conferma ancora addirittura in età prescolare in soggetti che hanno familiarità. Scusate, ho dimenticato questo, quindi erano a rischio di sviluppo di dislessia e vedete, oltre ad essere coinvolto questa parte di corteccia, era anche coinvolta una componente del giro temporale inferiore nell'area occipitali, vicino alla corteccia occipitotemporale. Ancora si confermano questi dati. questo correlava con le capacità di lettura. Quindi i bambini avevano dai 6 agli 11 anni, me lo ricordo, e si dimostra che quanto più sono rapidi a leggere e leggono bene, tanto più sviluppata è quest'area. Quindi capite che nello sviluppo del cervello è importante, non che questi poi probabilmente quelli che si trovavano un po' indicappati dal punto di vista della situazione anatomica erano quelli che erano più lenti poi nell'acquisire la lettura. Questo è un lavoro più recente, il 2009, che è interessante perché sempre facendo studi solo di volume con la risonanza magnetica ha dimostrato che l'anatomia potrebbe spiegare tutte quelle diverse ipotesi neuro, diciamo, cognitive, senza neuro, cognitive che vengono attaccate alla dislessia. È un disturbo fonologico, non c'è dubbio, nessuno può negare che sia un fondamentale disturbo fonologico la dislessia. C'è una teoria visiva, è probabile che ci siano anche problemi di questo tipo, soprattutto perché abbiamo visto coinvolte anche aree visive. L'ipotesi c'è rebellare perché si associano dei disturbi particolari del movimento, eccetera. Non si sa quanto queste cose poi centrino con la dislessia in sé, ma sono trovati associati e dal punto di vista cognitivo sono le teorie che vanno di più. De Monet 2004, grande revisione della letteratura. Bene, questo lavoro studia un gran numero di soggetti, 38 dislessici e 39 controlli adulti e vede di nuovo che ci sono delle modifiche dell'anatomia. Vedete la bianca e la grigia del cervello, del cervelletto, vedete queste sono la grigia e la bianca, i dislessici in rosso e i normali in blu, vedete che insomma ci sono delle differenze nel cervello come nel cervelletto. La cosa che viene poi considerata è che vanno analizzate le differenze in dettaglio e ancora vengono fuori queste strutture che vi ho descritto, ormai imparerete a memoria, che riguardano l'emisfero di sinistra, che sono strutture importanti nell'ambito del linguaggio, diciamo così, e sono appunto legate in maniera significativa alle performance neuropsicologiche relative a quei domini e quindi se ne vede in questi cervelli dislessici sono parecchi soggetti, ci sono situazioni diverse, quindi ci sono sia disordini, alterazioni anatomiche delle vie del linguaggio, dell'emisfero di sinistra ma anche alterazioni cerebellari, anche alterazioni più propriamente visive. Gli autori infatti concludono che ci sono multifocal brain structural abnormalities, cioè non ce n'è una, con una maggiore implicazione sicuramente dell'emisfero di sinistra nella corteccia temporale superiore, nelle aree occipitotemporali più visive, nel cervelletto e che quindi deficit diversi che possono essere evidenziati da un punto di vista cognitivo nel soggetto dislessico possono essere diciamo sottesi da una neurobiologia varia, quindi non c'è un'unica cosa ma ci sono situazioni differenti. Questo invece è un campo secondo me ancora più interessante ottenuto con l'imaging MRI lo studio dei fasci di connessione, quindi degli assoni, i fasci di sostanza bianca che nel nostro cervello connettono tutto con tutto ma però con delle autostrade e strade prevalenti. Questa architettura è quella che fondamentalmente viene costruita durante lo sviluppo fetale ed è guidata da specifici geni e quindi si pensa che studiare alterazione di questa comunicazione tra le aree del cervello potrebbe essere veramente interessante nella dislessia e questa è una storia più recente questo è il metodo ancora non posso entrare in dettaglio ma noi possiamo studiare le fibre cioè gli assoni perché grazie alla risonanza magnetica possiamo allineare diciamo così le molecole d'acqua e poi vedere questa sorta di allineamento e quindi studiare praticamente se questi sono gli assoni se sono ben organizzati se sono ben mielinati quindi l'acqua ci sta dentro bene se sono invece dei mielinati quindi vedrò disordine o se sono di meno i motivi per cui io posso vedere un'alterazione della cosiddetta anisotropia frazionale fraction anisotropy quindi un'alterazione di questo fascio è perché appunto può esserci un'alterata coerenza tra le fibre riduzione di numero alterazione della mielina o possono essere disorganizzate questo secondo me è uno degli aspetti fondamentali nei disordini di sviluppo o possono essere degenerate pensate alle malattie neurodegenerative muore il neurone muore anche l'assone questo è un lavoro che è uscito su Neuroimage nel 2005 sempre su soggetti che avevano diverse capacità di lettura di questa età quindi interessante perché sono ragazzini e non erano in realtà dislessici erano ragazzini che nella fase di apprendimento alla lettura che dimostravano diverse capacità diverse capacità e alcuni erano devo dire inseriti con il discorso di rischio di sviluppo di dislessia o perlomeno con modiche alterazioni alla lettura quello che si è trovato legato alla capacità di lettura cioè più bravi erano i ragazzi o meno bravi erano più questi fasci erano forti erano ben costruiti e quali sono il corpo calloso nella parte posteriore visiva questo fascio che connette le aree temporali con le aree frontali parte del corpo calloso delle vie scusatemi motorie soprattutto quelle che riguardano l'articolazione e l'organizzazione del linguaggio dal punto di vista motorico insomma non voglio annoiarvi e le strutture che collegano i due piani bitemporali quindi più sono sviluppate e bene migliore è la lettura anche questa è la dimostrazione appunto i soggetti hanno misurato questa diretta relazione questo invece è un lavoro uscito su Brain da poco che dimostra da una ricercatrice che si occupa tantissimo praticamente unicamente di anatomia della dislessia uno studio di trattografia vuol dire che ogni soggetto singolo viene in ogni soggetto singolo viene valutato il suo fascio di connessione i fasci vi dicevo sono tanti non basta sapere l'anatomia ma qua ne vedete i più importanti delineati il fascicolo arcuato a sinistra è importantissimo per il linguaggio altrettanto sembrerebbe per la lettura appunto che è una funzione di linguaggio il fascicolo frontocipitale inferiore e altre sottocomponenti di questo grosso fascio che collega le aree temporali col frontale bene sono stati trovati nei soggetti singoli avere piccole specifiche alterazioni nei soggetti singoli con dislessia vi consiglio di guardarlo è un bel lavoro su un certo numero di soggetti che correlavano con modifiche abbiamo detto non c'è solo la lentezza leggere ci sono altri benefici cognitivi errori ortografici fonologici e di processazione dello speech questa è una meta-analisi di grossi della maggior parte dei lavori che studia i fasci di connessione che vedete conferma come diciamo epifenomeno anatomico alterazione della connettività di queste strutture del cervello da fasci che sono diciamo la nostra ipotesi è questa che siano disorganizzati più che depauperati perché basta ragionare se sviluppo una connettività una migrazione corretta io avrò un fascio consistentemente costituito da tante fibre se invece la migrazione è alterata il mio fascio si disgrega in connettività non corrette o inutili e arriva quindi a far mal funzionare questo sistema abbiamo fatto anche noi una meta-analisi pubblicata da poco che conferma guardando gli studi con più soggetti quindi 12 studi saranno stati dentro su 200-300 soggetti e il risultato è proprio questo vedete i fasci di sostanza bianca che sono disorganizzati nei soggetti che hanno la dislessia questo è certamente un campo più affascinante è lo studio di come il cervello viene coinvolto dall'attività cognitiva vera e propria cioè si studia il segnale bold è un segnale di aumento diciamo così dell'ossigenazione del sangue in particolari aree del cervello che sono in quel momento dedicate a fare qualcosa quindi non è che si vede sempre un'area ma si vedrà un sistema attivato se io leggo avrò un sistema attivato perché leggere non è una funzione cognitiva leggere è legato a numerose funzioni cognitive sottostanti che stanno apparentemente soprattutto in emissione sinistra nella norma ed ecco questo è un summary generale su un cervello gonfiato di che cosa l'imaging della lettura nei normali ha mostrato l'attivazione esattamente di quelle componenti che abbiamo visto impoverite come volume e malconnesse nella dislessia quindi quando uno legge si attivano aree visopercettive aree di decodifica fonologica diciamo questa è una semplificazione ma questo è il principale e queste componenti sono tra di loro collegate da quei fasci che vedevamo prima vediamo cosa succede in un semplice esperimento sempre uno dei nostri che è stato pubblicato qualche anno fa dove in ancora famiglie di dislessici abbiamo studiato che cosa succedeva durante la lettura di parole un esperimento semplicissimo e la baseline era leggere delle strane lettere non riconoscibili quindi controllavamo per tutti gli effetti di visivi che non erano interessanti e invece il resto era leggere la parola o addirittura anche la non parola che è ancora più difficile per il dislessico bene chi erano questi nostri dislessici erano soggetti che vedete da un punto di vista cognitivo erano assolutamente nella norma ma leggevano lentamente rispetto ai soggetti di controllo quindi con degli z-score assolutamente inferiori e però vedete che anche ad altre valutazioni cognitive fonologiche metafonologiche di memoria a breve termine erano o nella norma o ai limiti quindi c'erano dei problemi più gravi alle prove di metafonologia dove sicuramente se i normali fanno zero errori loro ne facevano una certa quantità ecco il risultato dell'imaging di quello che i segnali Bolt ci mostrano vedete ormai l'avete sicuramente imparato i controlli che leggono le parole attivano queste componenti dell'emisfero di sinistra con anche dei contributi dell'emisfero di destra l'imaging ci fa vedere anche questo questa è la dislessia soggetti dislessici hanno una sorta di ipo ipo coinvolgimento ipoattivazione delle strutture adeguate che permettono la decodifica della parola scritta e quindi questo spiega la lentezza il peggior funzionamento questa è una visione ancora generale dell'alterato sistema funzionale della lettura e questo è un altro lavoro secondo me importante abbastanza recente che è una meta-analisi quindi tanto per concludere il discorso sull'imaging che mostra che le alterazioni del cervello adulto nella lettura e sono qua evidenziate nell'adulto sono già presenti in bambini piccoli anche in età prescolare sono evidenti delle ipoattivazioni di componenti importanti di questo sistema questo è un lavoro di meta-analisi anche questo su un grosso numero di soggetti che mette insieme tutti i dati funzionali del collega Eraldo Paulesu e che confermando l'importanza di questo sistema di linguaggio nella lettura nell'emisfero di sinistro viso-percettivo anche cerebellare e delle strutture temporali e frontali nella lettura ne evidenzia il peso nel senso di lack of activation non si non viene coinvolto e particolarmente la struttura più alterata con la differenza maggiore in soggetti di controllo è questa struttura occipito-temporale che è quella che altri scienziati hanno definito la struttura della decodifica della parola cioè il segno scritto diventa un suono diventa un fonema e con significato quindi questa capite che questa struttura è assolutamente molto importante però non solo perché sono state anche evidenziate alterazioni della corteccia frontoparietale anche nell'emisfero di destra che dicono gli autori probabilmente rendono conto anche di altri deficit che sottesi da altri sistemi neuroanatomici questa è una parte durerà poco ma è un contributo che abbiamo dato noi alla ricerca negli anni passati abbiamo dimostrato che nonostante siano diverse le lingue e l'incidenza di dislessia nei vari paesi la base è sempre la stessa questo primo lavoro è uscito su soggetti normali dove abbiamo dimostrato che gli inglesi leggono parole uguali per esempio abbiamo messo bass banana gorilla cioè parole che proprio erano identiche nell'una e nell'altra lingua gli inglesi le leggono molto più lentamente degli italiani e anche delle non parole che quindi erano uguali le leggono molto più lentamente con dei tempi di reazione molto più lunghi questo che significato può avere questo dato comportamentale sicuramente il cervello ci sta impiegando di più perché sta ingaggiando un sistema più complesso e perché sta ingaggiando un sistema più complesso perché questi hanno imparato a leggere con delle caratteristiche di non corrispondenza fonologia e ortografia e di conseguenza se c'è scritto gorilla noi rapidamente diciamo gorilla per loro deve essere tradotto in gorilla quello che è bus diventa bus e non può essere bus e quindi ci deve essere una traslazione diversa il cervello ingaggia di più cosa succede nel cervello ebbene questo succede che effettivamente gli inglesi attivano molto di più questo sistema è come se fosse forzato a dover contribuire di più per arrivare a leggere correttamente di quanto non lo faccia il cervello degli italiani che coinvolge le stesse strutture ma meno imponentemente quindi la differenza era nettamente su una componente vedete visuopercettiva e anche fonologica quindi differenti componenti del sistema di lettura sono differenzialmente pesate nel loro uso legato alla cultura legato come io ho appreso la lingua e questo non ci dilunghiamo poi sono stati studiati i dislessici di diverse lingue e questo è stato il dato molto interessante perché abbiamo visto che ancora abbiamo confermato la maggior velocità di lettura nei soggetti italiani per esempio rispetto a inglesi e francesi ma la stessa situazione cognitiva quindi non è che fossero diversi la grande differenza era la velocità di lettura anche nei dislessici e che cosa troviamo? troviamo che tutti i dislessici indipendentemente dall'origine culturale hanno un'alterazione del sistema e il sistema l'area maggiormente coinvolta la differenza maggiore è questa quindi noi siamo arrivati a dire che il fenotipo è diverso perché il cervello ingaggia di più per l'inglese che non per l'italiano ma se uno è dislessico lo è perché è quel sistema alterato e non un altro comunque sia la sua lingua ci sarà più facilmente dislessico perché deve se quel sistema come vi ho dimostrato non funziona per motivi di connessione di volume o di struttura architettonica se io parlo inglese leggo più con fatica che non in italiano spesso i dislessici hanno molta difficoltà anche ad apprendere lingue tutta questa parte della mia ricerca non la posso presentare per motivi di tempo però questo fa spiegare come per esempio un ragazzino dislessico italiano che poi compensa impara a leggere in italiano avrà molta difficoltà a leggere l'inglese e imparare l'inglese proprio per questo motivo perché se lui fa l'inglese deve ingaggiare un sistema che per lui è malfunzionante allora perché io ho molti ragazzi che hanno imparato molto bene lo spagnolo con facilità addirittura anche il tedesco anche se il tedesco poi implica delle situazioni di working memory pesanti però ecco l'inglese è sicuramente molto più difficile ci sono alterazioni del cervello di tipo funzionale di attivazione in un dislessico che parla che legge una lingua scritta nel senso di ideogrammi come il cinese o il giapponese sì le hanno dimostrate ci sono delle differenze prima delle differenze diciamo le cose comuni vedete che questo è un soggetto normale cinese e questo è il soggetto dislessico quando leggono la loro lingua fatta di ideogrammi bene vedete che il sistema fondamentale è lo stesso emisfero sinistro però c'è molto contributo anche dell'emisfero destro in questa lingua ma non si può prescindere da questo e la patologia nel dislessico è sempre questa situazione di alterare questo sistema quando si vanno a misurare le varie aree come attività proprio di aumento dell'ossigenazione questi sono i normali in blu i dislessici in rosso vedete che l'attivazione di specifiche importanti aree del linguaggio è molto ridotta nella dislessia ma lo sono altrettanto altre strutture dell'emisfero di destra quindi probabilmente nella lettura di questo tipo di lingua occorre anche un importante contributo emisferico destro questa è la stessa cosa che hanno visto il giapponese recentemente uscito leggere le mora o guardare delle figure è un bel confronto è un elegante esperimento cosa fanno i normali soggetti leggenti e i dislessici leggenti quando guardano le figure hanno lo stesso tempo di reazione a riconoscerle nessun problema quando invece devono leggere le more che è una bella differenza è la solita differenza significativa nell'accedere al linguaggio scritto cosa succede nel cervello bene le alterazioni del cervello sono sempre quelle che abbiamo dimostrato essere coinvolte questa è la differenza tra i normali e i dislessici quindi quello che c'è di meno e sono le varie condizioni sperimentali vedete che coinvolgono prevalentemente l'emisfero di sinistra in componenti importanti anche fonologiche quindi ci sono questi aspetti transculturali presenti finisco la mia relazione con due esperimenti che abbiamo fatto recentemente abbiamo messo il neuroimaging e la genetica in un modo un po' banale uno potrebbe dire è vero molto banale però partendo dall'ipotesi che certi geni sottendono l'organizzazione del cervello allora noi abbiamo selezionato con la dottoressa Cecilia Marino e altri collaboratori di Bosisio Parini abbiamo selezionato un gruppo di ragazzi che avevano la mutazione del gene di Cdc2 di elezione e abbiamo pensato che lì avremmo forse trovato una disorganizzazione delle vie di connessione della via della sostanza bianca e così abbiamo studiato questi soggetti però abbiamo messo dentro anche un altro gruppo soggetti con la mutazione senza la dislessia perché mentre li reclutavamo i fratelli i parenti nella famiglia nell'ampio territorio dove abbiamo cercato abbiamo trovato soggetti mutati ma non dislessici poi abbiamo preso dei soggetti normali scusatemi sono questi di cui volevo parlare soggetti non dislessici con la mutazione però eravamo anche interessati a vedere i dislessici senza la mutazione di modo che il quadro era perfetto dislessici con mutazione e senza e soggetti non dislessici con la mutazione più i soliti normali che non avevano niente bene il primo risultato è questo che i fasci vedete questi piccoli dati che vedete qua in giallo si riferiscono alle alterazioni dell'anisotropia quindi dell'organizzazione del fascio in particolari componenti e dopo i fasci li faccio vedere più in esteso che sono prevalentemente nell'emisfero sinistro e che corrispondono un po' anche ai lavori precedenti che hanno dimostrato allora andiamo subito a vedere i dislessici non mutati ma anche loro hanno praticamente la stessa alterazione chiaramente soprattutto di questa famosa area visocipitale di componenti del fascicolo arcuato forse sono un po' meno gravi nell'evidenza di questa situazione ma sicuramente io ho scritto che c'era un comparable endofenotype e questo cosa vuol dire che se uno ha il fenotipo dislessia avrà lo stesso neurobiologia non ne può avere un'altra poi può avere più o meno altri benefici maggiori benefici di working memory altre situazioni o averla più grave o meno grave ma deve essere quello il sistema alterato e non degli altri e quindi questi sono i fasci che noi abbiamo trovato alterati e questo secondo me è il dato più importante che apre sicuramente la porta la finestra allo studio sotto un'altra ottica questi sono i soggetti non dislessici ma con la mutazione beh anche loro avevano delle alterazioni della connettività dei fasci non nelle stesse aree dei dislessici molto di più nell'emisfero di destra per esempio cioè quelle aree viso-percettive erano alterate più a destra ma avevano anche delle componenti in comune ma non tutto il sistema e quindi basta che sia più mantenuto e non emerge la dislessia che cosa hanno questi soggetti non lo sappiamo ma abbiamo iniziato a testarli hanno più problemi viso-percettivi magari hanno problemi di motion detection hanno problemi di simultaneosia cioè sono altri disondi di sviluppo che noi conosciamo quindi il gene di Cdc2 non è il gene della dislessia è un gene che sottende un'alterazione della migrazione neurale dell'architettura del cervello e che può dare fenotipi più diversi anche la DHD perché no e quindi adesso noi stiamo studiando popolazioni che non hanno apparenti deficit hanno la mutazione e vediamo sia dal punto di vista anatomico sia dal punto di vista cognitivo che cosa ci sta dietro adesso non voglio andare in dettaglio però vedete che i dislessici con la mutazione erano più grave rispetto ai dislessici non mutati come vi ho detto prima quindi forse la gravità c'è e abbiamo trovato questo dato per cui questo apre all'ultimo esperimento che c'era un'alterazione importante a livello delle radiazioni ottiche nei dislessici mutati non presente negli altri ci siamo domandati se questo forse potrebbe essere un marker specifico cioè che questa mutazione io non lo penso totalmente ma potrebbe aver determinato per vulnerabilità un'alterazione maggiore delle vie ottiche cioè del sistema noi non vediamo il magnocellulare dalla retina come si potrebbe vedere con altri metodi vediamo la parte più macroscopica cioè le vie che poi dalla corteccia dalla retina si portano alla corteccia visiva primaria e da lì alle vie visive associative e allora abbiamo fatto un altro esperimento solo comportamentale senza imaging ma alla luce dell'imaging che avevamo prima e abbiamo studiato come si comportano questi soggetti con dislessia e mutazione del gene alla percezione del movimento questo è appena uscito l'altro giorno e vedete questa banda grigia rappresenta che cosa fanno i soggetti normali quando vi faccio vedere vedono queste barrette vedete di contrasto diverso o così o così non ho l'immagine in movimento scusatemi che si muovono da destra a sinistra dall'alto verso il basso in maniera rotatoria e loro devono semplicemente osservarle e dire sì c'è movimento e rispondere verso destra verso sinistra la cosa impressionante è come potete ben vedere da qua che vertical motion horizontal motion c'è una differenza enorme e per certi contrasti c'è la cecità al movimento cioè questi soggetti non vedono le barre che si muovono uno dice dal punto di vista neuropsicologico uno che ha un motion deficit così grave cioè non vede neanche avvicinarsi l'automobile non vede probabilmente no perché questo è un bisogno di sviluppo e probabilmente c'è un compenso ma il compenso avviene su elementi visivi più macroscopici ma a livello della lettura questo potrebbe essere un importante motivo di impairment che ancora va considerato e queste sono appunto le differenze che sono minime quando il contrasto è piccolo sono enormi quando il contrasto è più grande guardate questi sono soggetti singoli più aumenta la frequenza spaziale e la contrast sensitivity vedete che crolla non riescono più a vedere e a detettare niente il commento è che c'è sicuramente un deficit di percezione soprattutto alle frequenze spaziali elevate quindi c'è una vulnerabilità di queste vie della percezione del movimento con anomalie che abbiamo dimostrato e che ora stiamo continuando a studiare e il lavoro successivo è questo dove abbiamo messo tanti soggetti li stiamo studiando e abbiamo cominciato a misurare tutte queste vie che vanno oltre le radiazioni ottiche ma raggiungono anche la sostanza bianca della corteccia che è proprio deputata alla detezione del movimento che è in un'area occipito-temporale e abbiamo visto che ci sono specifiche e nette alterazioni proprio di questi fasci in questi soggetti che hanno un grave deficit di percezione del movimento qua è un'altra evidenza rispetto ai dislessici non deletti i dislessici deletti hanno una grave alterazione le differenze sono veramente enormi e la fractional isotropi nei due gruppi quindi cosa diciamo come conclusioni le scriveremo che c'è un'alterazione di questo gene che mostra una selettiva importante vulnerabilità delle vie percettive e ci sono alterazioni in fasci che stiamo evidenziando per concludere vent'anni di ricerca con l'imaging la neurofisiologia la neuropsicologia nei disturbi di sviluppo ci hanno dato delle informazioni diciamo macroscopiche anatomico-funzionali sul pattern strutturali e funzionali chiamarli biomarker in vivo forse non si può fare come si fa nelle malattie neurodegenerative dove l'imaging ha contribuito enormemente a definire dei biomarker ma io penso che sia una strada anche giusta perché sono tecniche non invasive e quindi forse è possibile anche utilizzarle meglio vi suggerisco questo lavoro che è uscito su l'anset è un editoriale sulla dislessia di sviluppo che riassume un po' quello che ho detto io ma che voglio solo farvi vedere perché sottolinea gli aspetti neuropsicologici dicendo che un singolo deficit fonologico non può spiegare la dislessia e che probabilmente ci sono altri fattori neurocognitivi a rischio che contribuiscono o che sono presenti e valutabili le future direzioni è capire appunto questi fattori linguistici e non linguistici poi c'è la genetica finora siamo arrivati a vedere stamattina abbiamo visto tutti questi geni associati e sono geni che abbiamo capito sono fondamentali nell'architettura del cervello questo è un dato importantissimo l'imaging insomma ve l'ho fatto vedere qualche informazione credo vi sia rimasta delle principali signature pattern l'imaging può contribuire questo è l'ultima slide anche a far vedere la plasticità del cervello ora non ho tempo perché sarebbe altri 40 minuti di talk ma è un messaggio importante con l'imaging si sono viste le modifiche plastiche del cervello come aumento di volume certo aumentano le sinapsi le misure di risonanza lo dimostrano aumenta la connettività tra le aree certo la DTI dimostra queste cose questo è un lavoro uscito su Science dove appunto il John Gabrieli sottolinea una sinergia tra l'educazione e le neuroscienze cognitive e aveva studiato parecchi ragazzi con dislessia questi sono ragazzi normali quando leggono vedete che abbiamo proprio tutte le componenti e questi sono i soggetti con dislessia con silenzio di aree importanti e questi sono gli stessi dopo training di alto livello e adeguati qualcosa succede quindi evidence based teaching practice non teaching practice basate su non evidence questo è ovvio non si può perdere tempo bisogna agire bene al meglio sulle conoscenze cognitive neuropsicologiche anatomiche funzionali e grazie per l'attenzione allora ringraziamo la professoressa Perani per questo interessantissimo contributo avremmo pensato di permettere al pubblico di fare subito una domanda sul neuroimaging per poi passare invece all'ambiente successivo ovvero all'ambiente scuola per cui se se c'è una domanda magari la facciamo subito ma volevo chiederle visto che come in molte disabilità il soggetto cerca di sopperire con altre con altre sue capacità voi avete evidenziato invece sviluppi maggiori in altre aree del cervello dove quando il soggetto cerca di sopperire a questa problematica e volevo anche chiederle se da diversi tipi di soggetti di SA vedete anche diverse alterazioni cioè chi ha magari un maggior grado di discalculia rispetto a un maggior grado di dislessia è evidente grazie certo seconda parte sicuramente io ho presentato i dati sulla dislessia ma ci sono tantissimi dati che riguardano la discalculia soprattutto con alterazioni più specifiche a carico dei sistemi di processazione del calcolo tutti i dati che sono emersi quando l'imaging ha dimostrato cosa succede nel soggetto normale che fa bene certi compiti e quali sono le diverse componenti attivate dopodiché studiando il deficit preciso si vedono le alterazioni anatomiche e anche di mancata attivazione perché non sta funzionando quel modulo o quel sistema sicuramente per quanto riguarda il recupero certo ma non solo adesso mi sono focalizzata sulle alterazioni ma c'è una maggior attivazione o contributo dell'emisfero di destra nella dislessia durante i compiti di lettura quindi sicuramente c'è un interplay tra i sistemi che può certamente sopperire quando giustamente guidato alla capacità di lettura fino a raggiungere anche dei recuperi totali quando il sistema non è gravemente compromesso ecco perché sappiamo tutti che ci sono gravi diversi di dislessia quindi certo che c'è e si può vedere con l'imaging certamente non ho avuto tempo di presentare tutta questa parte bene grazie grazie a tutti